Domenica 8 gennaio, dopo che praticamente l'autista dell'Associazione per gli Invalidi ha schiacciato gli escrementi lasciati praticamente dai delatori del Comune, mi appresto praticamente a consegnare il frutto del loro business mafioso, quello dei cani, perché dicono che Cane Grate sostiene i cani, ecco allora se ne sostengono anche la merda, adesso glielo metto lì bella in evidenza così magari riescono a capire i danni che fanno. Questo qui è il loro operato che praticamente non si sono neanche degnati di venire a pulire e lasciano praticamente i loro delatori fare tutte le porcate del mondo totalmente indisturbati con minacce di morte e quant'altro, ecco, questo qui è quello che semina il Comune di Cane Grate, Repubblica Italiana. Questo qui praticamente è quello che è la semina del profitto mafioso praticamente fatto con i bambini dei cani, vi lascio anche l'avviso in modo tale che sappiano, diciamo, bene del loro operato, dei frutti del loro operato. Comune di Cane Grate.